Con il taglio del nastro di questa mattina nella nuova ciclo pedonale di via Soncino il quartiere di Sant'Orso diventa sempre di più dal punto di vista della mobilità sostenibile e fanese un punto di riferimento e di partenza per un nuovo corso della viabilità cittadina. Un processo lungo partito due anni fa e cresciuto attraverso tanti passaggi come il progetto a scuola andiamo da soli o la nuova segnaletica orizzontale e ora a grande richiesta dei residenti del quartiere questo nuovo pezzo di poco più di 500 metri che diventerà parte di un più lungo percorso che da Bellocchi passando per Sant'Orso appunto e il centro arriverà sino al mare. Ancora ci sono dei nodi da mettere in sicurezza però diciamo che questa è una delle prime linee della nostra visione di piste ciclabili della città, ogni quartiere deve essere collegato al centro storico il mare e questa pista diciamo restringe la carreggiata della via di via Soncino per diminuire la velocità delle automobili e mettere quindi sicurezza, avere più sicurezza sia per gli automobilisti ma anche per i pedoni ciclisti che percorrono quotidianamente questo tratto. E' stata appunto cambiata tutti i pali dell'illuminazione pubblica che sono a led quindi una miglioria, un efficientamento energetico, miglioria per la sicurezza stradale e quindi più di così non potevamo chiedere. Ma questo non è solo che l'inizio, esiste su Fano una progettualità per creare una vera rete di ciclopedonali che come tante arterie di superficie creano una viabilità alternativa per decongestionare dal traffico i quartieri della città, tutti messi naturalmente in rete. Ovviamente noi ci fermiamo qua perché quando saranno finiti anche i lavori dei sottoservizi di ASET faremo anche le asfaltature e quindi si migliorerà ulteriormente. Ecco ma quello che mi piace sottolineare è proprio questo aspetto, è un questo progetto, un intervento non spot ma che sta in un quadro più ampio di qualità della vita dei nostri quartieri. Sta dentro anche un altro progetto che è la bici politana quindi anelli, percorsi ciclabili ma su questo ne parleremo più avanti. Un lavoro di pregio questo della ciclabile di Sant'Orso portato a casa con una progettualità tutta interna al comune da ingegneri e tecnici e a basso costo 130 mila euro. Ora si tratta di raccordare via Soncino con il centro attraverso la ciclabile su via Papiria per completare il circuito virtuoso. I prossimi interventi poi si concentreranno anche su via Bellandra anch'essa da sistemare per far convivere bici e auto e dove però le soluzioni sono ancora in fase di elaborazione come pure in via Trave e in via Fanella dove con piccoli raccordi verranno messi in rete i tratti già realizzati.